Cerchiamo ora di capire insieme invece come arriva il Chievo a questa sfida contro la Roma. Andremo a sentire anche le parole di Di Carlo, allenatore di questa squadra. La prima senza Sergio Pellissier, il capitano del Chievo salterà la trasferta di Roma. Dopo aver giocato tutte le prime 18 gare, Pellissier resterà a riposo in via precauzionale. Non ci sono state conseguenze gravi dopo il terribile scontro con Kivu nel match con l'Inter. Pellissier resterà a riposo, rientrerà con la Juventus tra otto giorni. Ma sarà comunque un Chievo competitivo che metterà in difficoltà la Roma. Almeno questo sostiene il tecnico Mimmo Di Carlo. Troviamo una grande squadra. Però a prescindere da questo noi dobbiamo essere bravi a far girare un po' gli episodi da parte nostra. Perché abbiamo fatto due buone prestazioni sia con il Nauro che con l'Inter che non sono bastate a far punti. Perciò noi dobbiamo essere bravi a capitalizzare un po' tutte le nostre occasioni che creiamo e cercare di essere un po' più concreti anche a Roma perché contro grandi squadre bisogna sbagliare poco. Totti è il giocatore più importante e per me è il più forte che c'è qui in Italia. Non c'è senza dubbi perché lo stimo molto, è un gran campione e fa delle giocate che solo lui può fare in questo campionato italiano. Però c'è anche Luca Toni che ha tanta voglia di riscatto, c'è l'annatore Ragneri che stimo moltissimo, c'è una squadra che tecnicamente ha dimostrato comunque di reggere i ritmi delle grandi squadre. Troviamo una grande squadra.